Continua la protesta davanti agli uffici della direzione sanitaria dell'ospedale Santissima annunziata da parte di OSS e ausiliari esternalizzati dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti anche dopo l'incontro di questa mattina con i dirigenti dell'azienda ospedaliera. I contatti collettivi nazionali dei lavoratori impiegati negli apparti di cui l'ASL è committente non sono rispettati. Abbiamo dei lavoratori che sono costretti ad andare al lavoro per una sola ora giornaliera, altri che da anni hanno dei contratti di 11 e 14 ore ma in realtà svolgono orari settimanali superiori alle 20 ore e poi abbiamo una situazione gravissima che riguarda tutti i lavoratori degli apparti ovvero la pubblicazione della turnistica per i mesi che vengono pubblicate solo alla fine dei mesi stessi quindi rendendo impossibile per un singolo lavoratore la possibilità di organizzare la sua vita privata. Inoltre sappiamo che c'è un apparto in scadenza il 31-12-2018, quello che coinvolge gli OS e gli ausiliari abbiamo chiesto delucidazioni su quello che sarà il futuro dei lavoratori c'è stato detto che l'apparto verrà prorogato di un anno, nel frattempo ci sarà l'attivazione della procedura concorsoare. Il discorso più centrale per lo meno che riguarda chi lavora nel comparto, quindi in corsia tra gli ausiliari e gli OS è proprio la consegna della turnistica ogni mese nell'arco di questi ultimi 8 anni, tutti quanti il 29 o il 30 di ogni mese. Essendo questi tutti lavori di part time, quindi non vengono date le possibilità ai dipendenti di organizzarsi le proprie vite e quindi legalmente anche un altro tipo di part time.